La maestra di una scuola materna di Varedo in Brianza è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai danni di bambini, di età tra i 4 e i 6 anni, di cui si occupava quotidianamente. Alla donna, una 45enne residente a Monza, sono stati contestati un centinaio di episodi di violenze in tre settimane, per lo più strattonamenti, schiaffi e aggressioni verbali che facevano vivere i piccoli in un clima di terrore e sottomissione e che sono stati documentati dalle telecamere nascoste installate per tre settimane in aula. Non solo li costringeva a stare fermi immobili con le braccia concerte nelle tre ore al giorno in cui si occupava da sola di loro, li sottoponeva a ricatti psicologici e minacce se si ribellavano. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Desio. Dopo la denuncia del preside della scuola fatta ai militari di Varedo, i quali hanno raccolto la testimonianza di alcuni genitori, i carabinieri hanno installato le cimici e la donna sarebbe stata ripresa mentre ordinava ai bimbi di restare immobili, minacciandoli di ritorsioni o mentre li strattonava o insultava. In un'occasione un bimbo sarebbe stato costretto ad asciugare, con il suo asciugamano per il viso, l'acqua di bicchiere che aveva riusciato a terra. La maestra avrebbe poi finito di asciugare l'acqua con i piedi sulla sua salvietta. Alcuni bimbi hanno riferito di non aver avuto il permesso di andare in bagno, costretti a trattenere i bisogni, fino all'arrivo della seconda maestra che li seguiva. A un bimbo, emerge dalle carte, la 45enne ha detto «Dillo a chi ti pare, non mi interessa se mi licenziano e ti picchio». Quando i carabinieri sono arrivati a casa sua, la donna non ha risparmiato insulti nemmeno a loro, tanto che è stata denunciata anche per oltraggio pubblico ufficiale. L'indagine, coordinata dalla procura di Monza e condotta dai carabinieri di Varedo, è partita dalla denuncia del dirigente scolastico al quale erano giunte le segnalazioni di alcuni genitori. Grazie. 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 Grazie.